Eccoci con la seconda edizione del nostro telegiornale, bentrovati nella redazione di Ora Tg. Apriamo il notiziario con il coronavirus. In serata a Palermo l'assessore regionale alla salute, Ruggero Razza ha tenuto una conferenza stampa per aggiornare i numeri del coronavirus in Sicilia. Sette casi già conclamati e trasmessi al Ministero della Sanità, ma sono emersi altri tre casi che verranno trasmessi solo domattina, di cui due maturate a Catania, due tamponi positivi a Catania e nel Catanese, uno a Palermo. Di questi tre casi in un solo caso è stato necessario il ricovero, ma solo precauzionale per uno dei soggetti che hanno manifestato positività al tampone. Ma vediamo in stralcio cosa ha detto l'assessore Ruggero Razza nel montato che segue. Il numero dei casi sospetti positivi vede la Sicilia assolutamente in linea con le altre regioni più lontane dall'area di contagio. Quello che volevo dire è che questi sette casi comunicati oggi con l'aggiornamento delle ore 18 del giorno essenzialmente sono persone o del tutto asintomatiche e quindi in isolamento domiciliare o guarite e nonostante ciò mantenute in isolamento domiciliare. Due di questi sette casi si trovano in ricovero ospedaliero, nessuno dei quali né in terapia intensiva né in ECMO. Anche da questo punto di vista la Sicilia si evidenzia in maniera adeguata. Nella giornata di oggi e quindi in fase successiva alla data di comunicazione sono emersi ulteriori tre casi sospetti, anch'essi saranno inviati domani all'istituto superiore di sanità. Voi sapete la regione intende che sia lo Stato, l'autorità di governo centrale della sanità a fornire la certificazione sia dei casi che del percorso di guarigione. Ovviamente questi non potevano essere considerati nella tabella delle 18, domani saranno ritengo esaminati all'istituto superiore di sanità e li troveremo nella tabella di domani dove emergerà che c'è un riscontro tra la valutazione del laboratorio regionale e le valutazioni che farà l'istituto superiore di sanità. Posso dirvi che di questi casi due sono stati tamponi esaminati dal laboratorio regionale individuato al presso il Policlinico di Catania e uno nel Policlinico di Palermo. Si tratta anche in questi casi di soggetti a cui non è necessario un ricovero in terapia intensiva, solo per uno di questi in via precauzionale è stato disposto il ricovero ospedaliero. Questo ci consente di chiarire che cosa? Ci consente di chiarire che da parte della regione c'è non soltanto un controllo e un monitoraggio costante di tutte le attività che si verificano in Sicilia, ma c'è la volontà di contribuire in maniera attiva alle attività che vengono coordinate dal governo nazionale. Proprio perché noi siamo consapevoli che non esiste alcuna ragione di allarme, lo ha ribadito il Presidente della regione, voglio continuare anche io a ribadirlo. Avete sentito lo stralcio iniziale della conferenza stampa e l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza che ha comunicato i dati del giorno, ha tra l'altro confermato che per quanto riguarda la Sicilia non si tratta di focolai diretti, ma di persone che in realtà sono state in contatto o con la zona focolai, dunque con la Lombardia o con persone provenienti dalla Lombardia. Altro dato che è stato successivamente rilevato nel corso della conferenza stampa che si è chiusa poco prima, dalle 8 meno un quarto della sera, è il significativo decremento di accessi negli ospedali siciliani. C'era stato uno forte incremento di accessi nei primi giorni dell'emergenza, adesso secondo quanto è dichiarato dall'assessore alla salute nel corso della conferenza stampa in Sicilia si registra un decremento del 30% circa di accessi giornalieri e pronto soccorsi degli ospedali isolani. Cambiamo pagina, andiamo avanti con il nostro telegiornale, parliamo di degrado, in questo caso andiamo ad Acireale, più precisamente nella zona di Santa Caterina, suggestiva frazione, porta di accesso tra l'altro al percorso naturalistico della riserva protetta in Curia, rifiuti di ogni genere. Queste le segnalazioni dei cittadini che siamo andati a verificare. Una discarica a cielo aperto, un'area protetta interna alla riserva orientata della Timpa in cui vengono sistematicamente abbandonate rifiuti di ogni genere, i residenti stanchi di subire da mesi denunciano il rilascio indiscriminato di materiale destinato allo smaltimento nei centri specializzati, trattandosi di rifiuti altamente inquinanti. A Santa Caterina, caratteristica frazione del Cereale, un tempo nota per gli stabilimenti termali e il percorso dell'acqua grande, uno dei sentieri che conducono al suggestivo affaccio della Timpa, la situazione è quella che vedete nelle immagini. Pneumatici, eterni, pezzi di auto in disuso ed ogni sorta di rifiuto viene abbandonato in questo luogo dal solito esercito di incivili nell'indifferenza generale. La zona, la sera, è al buio particolare che favorisce l'azione indiscriminata degli sporcaccioni, liberi di scaricare di tutto. A lamentare una situazione di grande disagio anche l'associazione che gestisce gli spettacoli dell'Opera dei Pupi. Qui i turisti neanche entrano più e coi pochi che arrivano scappano via, fermo residente, telecamere spente. Il tratto interessato verrà bonificato in tempi celeri, assicura l'assessore servizi ecologici del Comune di Ecireale, Daniele Larossa, raggiunto telefonicamente. Gli ispettori del nucleo ambientale del corpo della Polizia Municipale, Locale e Stamani hanno effettuato dei controlli approfonditi nel tentativo di rinvenire tracce utili a risalire all'identità di quanti deturpano l'ambiente. Basta un indizio come uno scontrino o riferimento postale per tracciare i responsabili e sanzionarli. Le telecamere di sorveglianza, l'alternativa utile a scorreggiare questa odiosa pratica. Un residente stanco di subire tutto questo lancia un appello alle istituzioni cittadine. I rifiuti sono lì da mesi, noi da mesi comunichiamo anche all'attuale sindaco, ma anche l'amministrazione è passata da quando è entrata alla differenziata che quella zona è continuamente un ricettacolo di micro discariche, di tutti i materiali. Non possiamo ancora sentire che ci sono gli sporcaccioni incivili e noi che cosa dobbiamo fare? Aspettiamo lo sporcoccio incivile che culturalmente acquisisce un grado suo personale di capire che non deve gettare la spazzatura? Noi non ci siamo. È infattibile la cosa, è improponibile. Ripeto, noi vediamo lì turisti che se ne scappano perché è un qualche cosa di invivibile, inammissibile, specialmente da chi era paladino dell'ambiente, del turismo e di tutto quanto quello che ne consegue. È un qualche cosa di oramai insostenibile. L'assessore ha detto che inizierà a fare una bonifica, ok, ma ci vuole anche dopo tutto quello che può essere, informazioni e tutto il resto anche un qualcosa di repressivo. Bisogna incominciare a cercare di tutelare questo ambiente che è completamente devastato, l'ambiente, vi li dico, dove io vivo. Altre parti c'erare avranno lo stesso problema. Quindi ognuno può denunciare la zona dove vive. Noi lì non possiamo più quasi andare a fare una passeggiata nelle zone, nel sentiero che va dal paese Santa Caterina fino ad Acque Grandi perché è una zona che è un ricettacolo di immondizia. Quindi noi facciamo appelli e in tutte le maniere denuncieremo sempre questa cosa. La denunciamo da anni. Vecchia nuova amministrazione. È un qualche cosa di inverosimile. Inverosimile nel 2020 ancora sentire che ci sono di sporcaccione gli incivili. È la stessa cosa che ci sono i lati e la polizia non li arresta. E cosa facciamo? Da Cireale a Giarre, ancora per parlare di disagio, in realtà si parla di una polemica per la mancanza di macchinette, bevande e snack all'interno dell'ospedale. Il comitato civico Rivoliamo l'ospedale di Giarre porta alla ribalta un potenziale di servizio legato all'assenza nella struttura sanitaria di via Forlanini dei distributori di bevande e merendine che sono invece regolarmente installate all'ospedale di Acireale. La struttura ospedaliera giarrese che dovrebbe tornare a pieno regime prossimamente è infatti ubicata lontano dal centro storico, tant'è che i distributori automatici a sentire il responsabile del comitato diventano una vera e propria necessità. Ci siamo accorti che ad Acireale da circa tre settimane sono state ricollocate le macchinette distributiche di acqua, caffè, vivande varie. Abbiamo chiesto ufficialmente all'ASP come mai a Acireale sì e a Giarre no, essendo che anche qui ci sono dei reparti aperti con pazienti ricoverati, con familiari che vengono attuati e più tutta l'utenza che viene eserbita dagli ambulatori del PTA. Ci è stato risposto che c'è una gara d'appalto che ancora materialmente deve essere completata e espletata e che quindi passerebbero ancora diversi mesi affinché possano esserci le nuove macchine ricollocate per quanto riguarda l'acqua, il caffè, le vivande queste qua. La questione che ci ha lasciato particolarmente perplessi è che ci è stata data informalmente la spiegazione che l'ospedale di Recireale è l'unico di quelli gestiti dall'ASP3 che trovasi fuori dal centro della città. Ma ho noto a tutti che appunto l'ospedale di Via Forlanini in Contrata Costeggiare non ha locali di ristoro proprio appena all'esterno della struttura ospedaliera e comunque in ogni caso un paziente ricoverato in pigiama deve uscire per eventualmente fornirsi di una bottiglietta d'acqua, un caffè o chi che sia e la cosa ci lascia alquanto perplessi dovuta soprattutto al fatto che gli ospedali di Giare e Recireale ancora oggi sono riuniti ed è per questo che noi abbiamo fatto un accesso agli atti. Vorremmo capire secondo quale dispositivo e quale disposizione delibera è stata autorizzata in maniera straordinaria, in deroga, provvisoria, chi che sia, la ricollocazione a Recireale e non a Giare che ancora oggi è ospedale riunito con Recireale. Soluzioni? Soluzioni? Speriamo che la vicenda smuova una sorta di buonsenso e vengono al più presto collocate le macchinette così come sono state fatte a Recireale. A proposito di Giare parte il nuovo appalto per la raccolta dei rifiuti, nuova ditta da oggi in servizio. La IGM rifiuti industriali SRL gestisce da oggi il servizio di igiene urbana nella comune di Giare. Stamattina mezzi già al lavoro sul territorio comunale. L'appalto ha una durata di 3 anni e 10 mesi sino alla conclusione del termine originario. In una prima fase la nuova ditta per la raccolta dei rifiuti a Giare. Non varierà il calendario di raccolta attuando le medesime modalità di conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini. Stamattina spazzatrici e raccoglitori già al lavoro. A breve saranno installati nuovi cestini nelle vie cittadine. Anche questa è una scommessa, come mi piace dire, una scommessa fra noi, l'amministrazione e soprattutto la cittadinanza che si può vincere solo se stiamo assieme. Quali sono i programmi nell'immediato? Nell'immediato è non far subire il trauma del cambiamento e quindi continuare il servizio così com'è. Ma già siamo all'opera con l'amministrazione con la quale si è creata un'ottima intesa per vedere di adattare il servizio anche alla luce delle modifiche alla normativa, delle ordinanze che ci sono state da parte del Presidente e della Regione. La popolazione chiede una jarra più pulita? Noi contiamo di non far fare cattiva figura, però la popolazione chiaramente deve metterci anche il suo perché, ripeto, è una scommessa che bisognerà vincere insieme. Quello che chiedete è proprio la collaborazione a livello civico? Sì, questo è fondamentale perché noi siamo dei semplici esecutori che puliamo quello che c'è a terra che però è arrivato a terra perché qualcuno gliel'ha portato, così come raccogliamo i rifiuti che devono essere differenziati a casa. Già stamattina ha potuto registrare le prime richieste sul campo, per esempio quella di installare dei cestini? Sì, chiaramente adesso cercheremo di andare a regime, ricordiamoci che abbiamo sottoscritto il contratto il 21 febbraio, siamo partiti il primo marzo, quindi già c'è stato un bel rush per avviare il tutto. Oltre tre anni per lasciare il segno in senso positivo? Sì, abbiamo questi al momento tre anni e dieci mesi di contratto, vedremo di fare il nostro meglio. A Catania mesi fa il Comune rimodulò le vecchie municipalità, divennero municipi, ma al regolamento non ha fatto poi seguito l'attuazione dello stesso, adesso i presidenti dei sei municipi chiedono celerità. Lo scorso novembre il Comune di Catania varò la riforma delle municipalità che da circoscrizioni divennero municipi, se in tutto così come le municipalità che venivano in qualche maniera abrogate. Il regolamento, che dovrebbe però dare maggiore autonomia agli stessi municipi, garantendo anche una migliore risposta alla front office degli uffici, non è stato ancora attuato dall'amministrazione cittadina. E oggi i sei presidenti delle sei municipalità, anzi dei sei municipi, chiedono al sindaco e alla direzione del decentramento di avviare il procedimento attuativo per un momento davvero assai atteso. Questo consentirà anche il maggiore coinvolgimento dei municipi nelle dinamiche della politica cittadina, anche attraverso la convocazione della consulta dei presidenti. I sei sottolineano che si tratta di una presa di posizione certamente ferma, ma non polemica nei riguardi dell'amministrazione, sottolineando come sia interesse comune, sia dell'amministrazione centrale che dei municipi, garantire ai cittadini i servizi erogati dalle sede decentrate. Conferisce in virtù di una disposizione regionale le deleghe e i poteri ai sei municipi di Catania, perché gli stessi possano operare nel rispetto delle deleghe che la legge regionale aveva precedentemente conferito e da quel momento l'augurio del sottoscritto e degli altri colleghi presidenti era che i municipi potessero operare in maniera assolutamente omogenea e sinergica. Così purtroppo fino ad oggi, che siamo a marzo 2020, in realtà quanto sperato non è ancora accaduto. Ecco perché congiuntamente agli altri presidenti abbiamo ritenuto necessario stimolare l'amministrazione nella persona del sindaco, assessore al decentramento e la direzione del decentramento, perché possano congiuntamente dare avvio a quello che nello scorso novembre il Consiglio Comunale ha approvato, ovvero il regolamento sul decentramento. Maggiore autonomia da un lato, efficienza degli sportelli dall'altro. Oggi i municipi rappresentano la prima interlocuzione tra l'utente e l'amministrazione centrale. rivestono un ruolo importantissimo, ecco perché il regolamento sul decentramento conferisce a questi organi la possibilità non solo di accogliere, ma anche di espletare le tante pratiche che giornalmente l'utenza necessita. È necessario che sin da subito si dia avvio a quanto disposto nel regolamento con l'indizione della consulta dei presidenti, che sulla base della disposizione approvata rappresenta un primo step necessario ed obbligatorio nel rispetto alla legge. L'azione di Palazzo degli Elefanti di fatto dunque si sostanzia anche attraverso le sedi decentrate del municipio cittadino e l'attuazione del regolamento dunque a diversi mesi di distanza dall'approvazione sembra essere imprescindibile. I municipi stanno continuando ad operare come hanno sempre fatto in passato, tuttavia possono certamente adempiere e assolvere alle loro funzioni con più contezza, tempestività, ma soprattutto con maggiori servizi nel momento in cui il regolamento prenderà la luce da un punto di vista assolutamente materiale. Ci sono dei ritardi nei trasferimenti della regione siciliana alle società che si occupano di trasporto pubblico locale, ad esempio a Catania i dipendenti dell'AMT sono stati pagati solo per metà relativamente a febbraio, ma accampano anche pretese nei riguardi dell'amministrazione. Vediamo come nel servizio. Anche l'AMT, azienda metropolitana Trasporti, ha erogato solo il 50% delle aspettanze pattuite dai propri dipendenti per la mensilità di febbraio. È uno degli effetti dei tagli che la regione siciliana ha operato nei trasferimenti alle aziende del trasporto pubblico locale e che alla fine hanno ripercussioni sulle diverse società che territorialmente si occupano di trasporto pubblico, a partire da quelle più grandi, come ad esempio l'azienda metropolitana Trasporti di Catania. La regione opera infatti in esercizio provvisorio e non ha ancora saldato la prima trimestralità dell'anno 2020, sebbene Romualdo Moschella, segretario regionale Faisa Cisal, punti il dito pure contro l'amministrazione di AMT. Purtroppo con questa amministrazione non è una novità, sono da più di un anno che continuiamo a ricevere le ritribuzioni di ritardo, ma il problema non è questo, il problema è l'organizzazione dell'azienda e il problema sono anche i possibili tagli da parte della regione siciliana. Noi ci stiamo attrezzando per questo, per avere un incontro proprio con il Presidente Musumeci, perché è impensabile penalizzare un settore importantissimo come il trasporto. Ad oggi noi avevamo una programmazione di circa 9 milioni di chilometri che passerà a 7,2 per una vicissitudine che conosciamo tutti, il discorso del distesso del Comune di Catania. Dico, ma è mai possibile che sempre debbano pagare i cittadini che avranno meno servizio e i lavoratori che si vedranno un'azienda ancora più ridimensionata. Tra l'altro le scelte che stanno attuando allo stato attuale sono abbastanza discutibili. Noi abbiamo una grande officina che è stata ridimensionata senza un motivo valido, senza un progetto ben definito. Addirittura abbiamo l'officina più grande del Sud Italia e non ci sono più quasi gli operai perché sono stati trasferiti alla guida. Sì, è vero, abbiamo necessità di guida, ma abbiamo anche necessità di chi mantenga i mezzi in efficienza, anche se sono nuovi, perché la garanzia ogni due anni scade e quindi si andrà a fare una manutenzione ordinaria da parte del nostro personale. Non hanno attuato questa strategia. Noi abbiamo fatto un esposto denuncia per garantire innanzitutto l'azienda che è un bene della città di Catania e anche i lavoratori e i cittadini che si vedranno purtroppo un servizio ridotto. Mancano le risorse, ma dall'altro lato a MTA però ha assunto appena poche settimane fa 40 autisti. Questo fa parte del progetto perché siamo sotto organico. Il discorso è, e le assunzioni anzi sono poche, il problema è il riorganizzare l'azienda e questo è quello che non è stato fatto. Io più che altro chiederei come mai ci stiamo andando a imbelagare in un sistema di noleggio auto, car sharing così menzionato, dove è stato già un fallimento a Palermo. Quindi a prescindere da dare risorse di dove siano, se siano del TPL o di altri posti, ma sarebbe meglio impegnarsi in una rimodulazione dell'azienda perché solo il contratto di servizio non basta. Il contratto di servizio è tutto quello che concerne il futuro dell'azienda e dei lavoratori. L'azienda esprime fiducia in una soluzione positiva circa i trasferimenti che la regione dovrà erogare. Il taglio di 4 milioni di euro su circa 19 potrebbe infatti non essere sostenibile per l'MT per come la stessa ha immaginato i servizi al cittadino rimodulando le corse garantendo nuovi servizi. Torneremo a Catania tra un attimo per il momento andiamo in provincia. Riposto, il sindaco dice la sua sulla depurazione lungo la costa Ioni che ne abbiamo parlato nelle scorse edizioni del giornale. Il primo cittadino ripostese ottimista in prospettiva futura. Il sindaco di riposto Enzo Caragliano torna sulla vicenda legata alla depurazione lungo il litorale marittimo ionico. Buoni propositi in merito sono emersi dall'incontro di sabato scorso nella prospettiva di un'azione sinergica tra i vari enti interessati che possa produrre risultati sperati nel breve termine. E' stato una riunione importante, valida, anzi ringrazio il senatore Anastasi che si è producato in questo senso, ma posso dire che anche il commissario Rolle è stato abbastanza recettivo. Quello che sta passando sotto traccia è la cosa più importante. Abbiamo sfatato una volta per tutto la famosa ubicazione del depuratore sul torrente fago, cioè al confine di riposto, inizio a cereale, seconda parola. Con un territorio così a vocazione turista, così esteso, così bello, non poteva essere una lettura da parte degli operatori turistici internazionali che c'erano tre depuratori, quattro depuratori nei giro di 15 km. Parto dal presupposto che se un depuratore funziona o funziona per uno o per due o per cinque funziona per tutti, o funziona o non funziona. Mi ha detto che funziona quello di Mascari che con questo nuovo aggiunto, modulo aggiuntivo, con questo raddoppio del progetto si ottiene il beneficio che si completano le reti fognari dei comuni vicini ori, che riposto c'è sia l'acqua bianca che l'acqua nera, anzi un piccolo appunto a chi vuole fare la memoria storica. Nessuno si è vantato perché tutte le amministrazioni precedenti a me hanno partecipato al completamento di queste asseviarie delle fognature bianche e nero. Il mio vanto è quello di avere sfatato, un'altra per tutto è tolto quella spada di Damocle sul territorio che era il famoso depuratore del Torrente Facua. Non ci sarà più questo patema, si raddoppierà il moto, si completerà, si amplierà quello di maschere, avremo aggiornamento e ricaduto sul territorio con le nuove rete fognari dei comuni vicini. Con la collaborazione di tutti i comuni interessati lei intravede una soluzione al problema? Certo, credo che i comuni che soprattutto hanno presediato il territorio, io parlo per il deputato di Maschio, sono stati vigili attenti, tant'è vero che l'impatto è zero. Poi con questa riunione si è parlato della problematica di tutta la fascia ionica, partendo da Messina fino a Siracusa. Non si è allargato oltre di questi confini perché ci siamo limitati a dare una mappatura, un punto oggi allo stato attuale di quello che è la rete fognaria che parte da Catania fino a Santa Teresa Riva. Questo ce l'ha attenzionato il commissario Rolli insieme all'ingegnere Corrao. Abbiamo fatto le nostre riserve, ci sono state da parte dei piccoli sindaci prese d'atto e soprattutto precisazione per quello che è la depurazione dell'Alcantara. Ma la cosa più importante per me, per il mio territorio, per il territorio della fascia ionica e Tenea è quello di avere sfatato questa ubicazione che non ci sarà mai più perché ormai è stato stanziato, è stato fatto il progetto e quando sarà realizzato si parla di raddoppiare, completare questo impianto di depurazione che può ricepire benissimo le acque di altri comuni viciniori. Dal mare Ripostese al mare Catanese, ieri inizio col botto per Lungomare Fest, la manifestazione voluta dall'amministrazione nepognese e che accompagnerà ogni prima domenica del mese da qui, da in marzo, dunque da ieri fino al prossimo mese di ottobre. Vediamo. Buona la prima. Migliai di catanesi, visitatori, turisti hanno affollato ieri il lungomare di Catania per la prima domenica dell'edizione 2020 di Lungomare Fest. Non solo l'asse stradale che collega a Piazza Europa ognina chiuso al transito delle auto, ma soprattutto manifestazioni sportive, aggregative, giochi per i bimbi, il vano lettura, i banchetti dell'artigianato, della solidarietà, gli esercizi commerciali aperti. Partito con un mese di anticipo rispetto allo scorso anno e forte delle indicazioni del 2019, Lungomare Fest, targato salvopogliese, ha come obiettivo quello di riconsegnare ai catanesi, ai visitatori e ai turisti, uno dei tratti più suggestivi di Catania, cioè il perimetro urbano che si affaccia sul mare e che lega la città dell'elefante allo Ionio. Buona la prima, si diceva, la soddisfazione dell'assessore allo sport e dell'amministrazione pogliese Sergio Parisi. I catanesi hanno risposto alla grande, hanno risposto con la voglia di stare all'aperto, abbiamo avuto un'affluenza straordinaria. Sin alle 18, sin quando abbiamo riaperto la strada, quindi segno che il catanese naturalmente ha la voglia di stare all'aperto, ma anche di allontanare lo spettro del coronavirus che sta facendo tanti danni anche sotto il profilo economico. Catania è una città straordinaria, Lungomare è un luogo bellissimo, una sorta di palestra all'aperto, a cielo aperto, tante sono le persone che praticano attività sportiva, tante sono le persone che praticano attività amatoriale, quindi che corrono qui durante il lungomare. In tanti ci hanno chiesto di chiudere il lungomare tutte le domeniche, stiamo facendo un ragionamento, il sindaco ha fortemente voluto l'apertura a marzo e non an aprile come abbiamo preventivato in passato, quindi stiamo lavorando in tal senso o naturalmente ascoltando le voci, le esigenze e la volontà dei cittadini. Lungomarefest è anche un contenitore di attività varie per i più piccoli, per i giovani, per gli adulti. Tante attività che polarizzano l'attenzione dei catanesi, attività sportive, attività culturali, attività anche commerciali, ieri ho girato tutti i bar dalla mattina fino al pomeriggio, erano strapieni, quindi segno dell'affezione da parte del cittadino nei confronti del lungomare e dei servizi che offre il lungomare con gli esercizi pubblici. Naturalmente ogni settimana ci adoperiamo per immaginare nuove iniziative in tal senso e devo dire che i risultati sono eccellenti. Senta, lei è l'assessore allo sport, è prevedibile pensare nelle prossime tappe di lungomarefest e degli avvenimenti sportivi ancora più caratterizzanti rispetto a quanto accaduto ieri? L'anno scorso abbiamo celebrato qui la giornata nazionale dello sport che si svolge in tutta Italia e a Catania è andata benissimo appunto qui a lungomare, certamente la riproporremo in questa palestra all'aperto. Grazie alla sinergia col Coni, con Enzo Falzone, sono tante le discipline che man mano si susseguono qui in occasione del lungomare, quindi in tal senso stiamo sempre lavorando e portando avanti nuove iniziative. Prossima tappa di lungomarefest fissata per domenica 5 aprile. A La Cireale grande successo per il concerto dedicato a Lucio Dalla nell'anniversario della scomparsa del grande cantautore. Un attributo a Lucio Dalla ad otto anni dalla scomparsa. Dall'altro mondo la band che domenica sera ha animato Piazza Duomo con un concerto evento straordinario ha richiamato migliaia di persone per un omaggio al grande cantautore bolognese con brani noti al grande pubblico estratti dalla discografia dell'artista che per buona parte dell'anno risiedeva e trovava espressione nella sua casa di Milo alle pendici dell'Etna. Un concerto ma anche uno spettacolo di grande impatto emotivo che ha raccolto consensi unanime tra quanti hanno avuto modo di assistere all'esibizione di questi bravi musicisti capaci di interpretare con grande enfasi e fedeltà i maggiori successi di Dalla. Bravi tutti nel far vivere le emozioni di un artista unico intramizzati da uno spettacolo che ha arricchito la scena e reso ancora più entusiasmante il concerto evento di A Cireale con la riproduzione dell'auto di Nuvolari cui dal l'ha dedicato una canzone. Due ore e mezza circa di spettacolo e migliaia di partecipanti entusiasti di riascoltare la magia di Lucio Dalla e in tanti ne hanno approfittato per un selfie seduto sulla panchina in bronzo a grandezza naturale di Dalla, opera del maestro Susini per l'occasione collocata in piazza e rivolta verso il parco dove Peppe Giuffrita e Lilla Costarelli in una combinazione vocale azzeccata, Gianfranco Torrisi alla chitarra, Gianfranco Lapira piano e tastiere, Egidio Daidone al basso e denso di vita alla batteria con le coriste Roberta Vitale, Enrica Guzzetta e Francesca Cannata hanno dato prova di grande professionalità e capacità sonore di spessore. Il nostro non è uno spettacolo musicale, è uno spettacolo a tutti gli effetti perché cerchiamo di condire le necessità delle orecchie con quelle degli occhi, quindi curiamo ogni minimo dettaglio. Abbiamo portato sul palco una ricostruzione della macchina di Nuvolari che era stata costruita da Giovanni Basso, nostro concittadino radiologo acese, ben conosciuto da tutti, insieme al cugino Sandro che purtroppo mentre stavano costruendo questa bellissima macchina ebbe un incidente mortale e quindi Sandro non c'è più. Ieri è stato il momento anche per ricordare questo nostro amico, scusate mi commuovo. Oltre questo abbiamo fatto divertire sicuramente, abbiamo visto che la gente è venuta nonostante il freddo, era il primo di marzo, c'erano 9-10 gradi, quindi con cappotti, sciarpe e guanti ha partecipato fino all'ultimo. I commenti dei video che abbiamo sentito su Facebook riportavano voci e dicevano, apro le virgolette, ma passavo magari un sonno. Quindi questo per noi è stato un successo veramente inaspettato per il momento stagionale in cui abbiamo creato l'evento. Ieri era la ricorrenza della morte e fra due giorni è stata la ricorrenza della nascita, quindi abbiamo trovato questo momento a cavallo e poi per noi è stato veramente emozionante collegare il nostro concerto con la statua di bronzo del maestro Carmine Susigni. È emozionante perché trasmette veramente la sensazione di trovarsi al cospetto di Lucio Dalla. I prossimi concerti? Stasera siamo a Catania, stasera siamo a Catania in una location privata. Sicuramente per quello che so io il 25 aprile apriremo Teleton in piazza Università a Catania. Rieccoci in studio dopo la pubblicità, non ci sono aggiornamenti, dunque ci salutiamo qui. Termina la seconda edizione di Ora Tg che avete visto sul canale 89 del Digitale Terrestre in Sicilia e sui nostri canali social, sul nostro sito internet. Prossimo appuntamento con il nostro notiziario domani alle ore 14. Grazie per essere stati con noi. Buon proseguimento di serata a voi tutti. Le previsioni meteo per la giornata di martedì 3 marzo 2020. Cielo variabile in Sicilia, i mari saranno calmi. Temperature nella regione, le massime 20 gradi a Siracusa, 19 a Catania. La più bassa 10 ad Enna, 16 gradi a Palermo, 14 a Trapani. No e''. Grazie a tutti.